Pasta Trend, Bologna, primo grande evento dove all'abbinamento della pasta abbiamo portato i nostri spumanti. Bisogna dire che l'abbinamento pasta e bollicine è un abbinamento eccezionale, un grande pubblico interessato a capire che cosa è oggi la pasta italiana e a capire quanto oggi a tavola un abbinamento pasta e vino sia l'espressione del made in Italy, l'espressione della dieta mediterranea. Io lancio una proposta che è molto semplice, spero che questa prima edizione di Pasta Trend sia il lancio per vedere anche la pasta al centro del prossimo Expo 2015 di Milano. Noi italiani siamo maestri nella diversificazione, nella biodiversità, nella biocaratterizzazione dei prodotti a base di pasta e vorremmo che questa pasta italiana fosse uno dei simboli, uno degli emblemi dell'Expo 2015 di Milano. Grazie 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 Grazie